Expo Venn in Sud continua, ci troviamo allo stand di Coveda e siamo in compagnia di Luca Rossato, il responsabile commerciale Italia per Pay Complete. Luca è un gran piacere ritrovarti. Altrettanto Fabio è un gran piacere ritrovarti. Ti troviamo qui in un angolo dedicato a tutti i prodotti Pay Complete che sono certo andrai a riepologare per gli amici di VenninTV e OrecaTV, ma non escludendo la presentazione delle novità. Assolutamente sì Fabio, quindi portiamo in esposizione la gamma micro-solidata di Comestero Group, che rimane un nome affezionato, comunque sia oggi Pay Complete. E più portiamo due novità che ci permettono di fare alcune attività nell'ambito dei pagamenti digitali e ci permettono anche di entrare in 4.0, comunque sia ancora una buona opportunità per i nostri operatori. Questo per quanto riguarda l'offerta tradizionale, ma ora veniamo alle novità presentate al mercato a Expo Venn in Sud 2023. Ok Fabio, quindi ci presentiamo con un oggetto denominato Marte, è un dispositivo, è un'interfaccia di connessione con tutte le vending machine. Può essere un master, può essere uno slave e ci permette poi di entrare nell'ambito dei pagamenti digitali, quindi app pubbliche e anche private e in più porti in 4.0. Questa che abbiamo visto negli ultimi secondi ha una sfumatura tricolore, i tre colori della bandiera italiana, ma per caso è un omaggio allo scudetto del Napoli? Potrebbe anche essere un omaggio allo scudetto del Napoli, se vuoi te lo faccio anche azzurro. Ecco, me l'hai servita su un piatto d'argento Luca. Mentre non trascuriamo l'altra novità che pure presentate in questa occasione, di cosa si tratta? Allora, presentiamo sempre Marte. Marte porta con sé due modalità di acquisto digitale. Il primo è un'app mai suddivisa, vista, conosciuta ed è fatta da Satispay, quindi permette di arrivare all'acquisto del distributore automatico mediante App Satispay. Con l'app ricarichiamo le chiavi e acquistiamo. Ok, la seconda è un'app nostra, si chiama Sakurtra, ed è un'app che non prevede l'utilizzo del contante, ma viaggia solo sul digitale. Quindi viene abbinata una carta di credito del nostro utilizzatore finale e con la carta di credito vado a ricaricare un borsellino che poi mi permette di acquistare e di ricaricare chiavi. E allora Luca, forniamo a questo punto un indirizzo e-mail per entrare in contatto con te o comunque con chi si occupa all'interno dell'azienda della gestione dei contatti per richiedere maggiori informazioni e chi sa andare a imbassire finalmente una relazione commerciale con PayComplete, com'essero? Esatto, quindi la mail è la mia, luca.rossato.paycomplete.com Noi ci vediamo a questo punto a Venditalia 2024. Esattissimo, mi rubo solo un secondo, faccio un ringraziamento a Coveda per l'ospitalità che ci ha dato. Grande occasione e anche a Sicilvendi perché in questa manifestazione siamo presenti su due padiglioni, Sicilvendi e Coveda. Grazie a entrambi.